Quanta differenza c'è tra la migliore pizzeria in Italia e quella all'ultimo posto in classifica? Alla fine vi lasciamo gli scontrini. Al primo posto abbiamo Diego Vitagliano in testa alla classifica da anni e quest'anno ha vinto anche miglior pizza del mondo. Invece al 98esimo posto c'è Pigreco. Sì, va bene, non è proprio l'ultimo, però era quello a noi più accessibile, che sta a volla. Location semplice e non lussuosa per entrambi i locali. Vitagliano però ha menudo gustazione e carta di vini. E infatti il coperto costa il doppio rispetto a Pigreco. Passiamo al cibo, perché è quello che interessa, no? Da Vitagliano vi consigliamo sicuramente il croquet, che è uno dei migliori che abbiamo mai mangiato. Pigreco invece fa delle frittatine con panatura croccante buonissime. Entrambi i locali offrono diversi tipi di pizza, a nostro parere sono pari sulla fritta e al forno. Ma Vitagliano fa una pizza napoletana che è la migliore che abbiamo mai mangiato. Infatti è la migliore al mondo. Anche Pigreco si difende bene, noi pensiamo che sia la migliore di questa zona di Napoli. Pigreco offre anche un'ottima pizza al padellino, mentre Vitagliano ha una pizza alla romana bassa e croccante e una alta e croccante, che è stata quella che abbiamo preferito dopo la margherita. Mentre voi guardate gli scontrini, noi vi diciamo che se volete approfondire o siete dei nerd degli impassi, c'è il video completo su YouTube. Con annessa e interviste pizzaioli! Link in bio!